Attenzione, è pietato attraversare i binari, servirsi del sottopassaggio. Attenzione, treno in transito al binario 2 all'ottanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2 all'ottanarsi dalla linea gialla. Attenzione, avvisiamo i viaggiatori che il transito di fine a ponte nelle albi di Galazia è interrotto per lavori di ripristino e infrastrutture a seguito di eventi mesmero. E' stato eseguito un servizio di base costituzione. Scusiamo per il disagio. Annuncio cancellazione treno. Il treno regionale, 56-21, di Trenitalia, previsto in arrivo da Venezia a Santa Lucia, alle ore 12.03, e diretto a Belluno, oggi non è stato effettuato. Ci scusiamo per il disagio. Attenzione, treno in transito al binario 3 all'ottanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 3 all'ottanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al binario 3 all'ottanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 3 all'ottanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al binario 2 all'ottanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti